Musica Siamo con l'allenatore del Villa San Giovanni, Romeo Antonio diciamo che il risultato non vi arride però se vogliamo dire, vogliamo trovare una piccola giustificazione quel palo preso quando sullo 0-0 forse poteva cambiare l'incontro se la palla invece del palo entrava Sì, innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori Sì, oggi purtroppo è un periodo sfortunato abbiamo preso quel palo dopo 10 minuti solo col portiere, porta vuota abbiamo preso il palo poi sinceramente ci siamo presentati con mezza squadra perché non per qualcosa però mancavano 10, ho indisponibili 10 persone tra infortunati e qualcuno che lavora il sabato a lavora mi mancavano 10 persone il primo tempo è stato, sinceramente abbiamo giocato in modo imbarazzante dopo il primo palo preso siamo stati proprio deludenti si può perdere sì, però con merito si deve avere voglia e si può anche perdere sinceramente oggi il merito non ha rubato niente anzi, ha fatto la sua nesta partita ha sfruttato le occasioni che ha avuto è onore al merito che ha vinto giustamente vi giocavate qui la possibilità magari di uscire da quella griglia dei play out ora si fa più dura per voi ma ho visto che comunque avete un'ottima striscia di pareggi quindi naturalmente mancandovi tutti questi giocatori sarà difficile per voi li recupererete? sì, sì, tranne abbiamo qualche ragazzo che dovrebbe rientrare la prossima settimana dovrebbe chi mancava oggi per lavoro la domenica c'è quindi ce l'abbiamo anche la domenica contiamo di recuperare questi ragazzi perché oggi per esempio negli ultimi 5 minuti c'è stato l'esordio di Gianluca Mantegna un ragazzo degli allievi che è un 2003 quindi per dirvi un attimino come eravamo all'osso il secondo tempo abbiamo giocato un pochettino meglio hanno avuto una piccola reazione perché giustamente dopo quel primo tempo imbarazzante ci doveva essere una reazione vediamo un attimino di recuperare queste persone questi ragazzi ma non per qualcuno non perché chi ha giocato oggi demerita ma perché per una questione di scelte per una questione di allenamenti per una questione di continuità perché quando ci sono più scelte si può lavorare meglio sia nell'allenamento sia durante le partite siamo con il presidente del Villa San Giovanni City Romeo Antonino diciamo che la partita oggi è andata male perché tanti gli assenti per il Villa San Giovanni non c'è stata storia ma ora si mette male per voi per i play out oppure dovete tentare comunque di raggiungere questa posizione per poter sfruttare poi il fattore campo beh ne prendo atto di quello che è la realtà la realtà mi dice che oggi come giustamente diceva lei partita non ce n'è stata in quanto i miei ragazzi sono entrati in campo pensando che venissero a Melito Porto Salvo per fare un picnic perché non ci si può giocare a calcio e in nessuna parte e in nessuna competizione se non c'è grinta, cattiveria, determinazione cose che io non ho visto principalmente nel primo tempo è stato un primo tempo imbarazzante proprio un primo tempo da non poter dare una motivazione tale di una squadra una squadra che ha alti e bassi quest'anno da impazzire perché ti fa partite da otto con le squadre di testa con le squadre di medio classifica e bassa classifica si scioglie come la neve al sole quindi mancanza di carattere mancanza di determinazione per giocare a questi livelli serve proprio questo se non ci sono questi allora si deve fare mia colpa mia colpa e oggi sinceramente sono eccetto qualcuno qualche elemento come Malaspina come Silla qualche altro elemento che si sono che si sono dimostrati meritevole della maglia che hanno indossato oggi per gli altri sono tutti da non classificato e questo non classificato mi impone a dare una sterzata ferrea in questo fine settimana perché gli obiettivi che noi abbiamo sono quelli di una tranquilla salvezza ma se la devo fare con sofferenza allora a quel punto ne prendo atto e decido io chi deve andare in campo per onorare la maglia perché fondamentalmente è questo onorare la maglia è importante è importante perché noi facciamo sacrifici per farli divertire e se questo non deve venire meno vedere ragazzi che passeggiano in campo allora tanto vale mettere i ragazzini gli allievi che sicuramente faranno più bella figura di rispetto a questi ragazzi mi dispiace di essere duro e drastico in questo però sono un paio di settimane che la cosa non gira tutto male e quindi devo prendere atto e faccio vediamo in settimana di poter riprendere il filo della situazione grazie per la cortese collaborazione e per l'intervista fatta le volevo fare un'altra domanda l'ultima domanda che è sulla ecco dall'incontro di oggi lei è un veterano diciamo dei dirigenti di questi campionati ecco mi dia un suo parere su com'è strutturato cosa c'è da riprendere in questi campionati cos'è che non va brevemente se può naturalmente come vuole tranquillamente io sicuramente lei è a conoscenza io sono stato uno dei promotori di una simpatica ed significativa campagna antiviolenza verso il settore arbitrale verso il mondo calcistico da quella a me piace che il calcio sia divertimento che sia aggregazione che sia voglia di viverlo intensamente con i giusti criteri di equilibrio e di coscienza che è solamente un divertimento se questi vettori vengono meno allora il discorso decade però è un discorso che voglio dire è un'altra cosa anche che si deve anche la Lega anche la FGC deve dare non deve guardare solo ed esclusivamente la Lega Pro le serie maggiori ma se effettivamente terza categoria seconda prima a loro non servono che noi facciamo questi sacrifici perché in prima nell'eccellenza nelle varie categorie superiori c'è un ritorno magari economico non direi però un ritorno c'è di visibilità in tutto e per tutto in queste categorie c'è solo 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 sacrifici a non finire non ricompensati da nessuno non ricompensati né tanto meno che la Lega ci gratifichi con una quanto meno una terna arbitrale che è molto importante e non viene presa in considerazione ci sono determinati determinati campi di calcio che metti un ragazzino ci mandano dei ragazzini che devono fare le ossa giustamente ma non li possono fare solo ed esclusivamente sulla pelle nostra della seconda categoria della terza categoria della prima categoria perché qui come tanto che ci fosse stata una ricompensa anche economica perché noi per fare una seconda categoria non è che i soldini non si escono e se ne escono abbastanza se ne escono andiamo sui 5 mila euro solo per l'iscrizione di che cosa parliamo nel momento in cui poi ci ritroviamo sempre a contare i cocci e siamo sempre nella graticola perché ti punto nel dito in quanto non siamo tutelati come società non siamo tutelati come categoria arbitrale lascia desiderare non riesco a capire dopo a quello a fine campionato troviamo troviamo come già il sentore c'è nelle ultime 4-5 giornate di ogni qualsiasi campionato ci sono le squadre accomodanti di fatto che non sono leali e corretti nel giocare a calcio di fatto che ci si vedono risultati mai e poi mai ipotizzabili e quindi parliamo di che cosa è tutto un calcio da rifondare da rifondare principalmente nei dirigenti nei dirigenti che oltre nei dirigenti che cercano mettono sì passione però se non hanno una formazione tale di ideali di principi e vanno a giocare a fare pallone calcio solo ed esclusivamente per una competizione di sfida non si fa in nessun posto qui ci si deve guardare in faccia e dire la seconda categoria la terza categoria la prima categoria servono alla FGC per poter fare i campionati e se servono come mai al nord ci sono le terne e qui in Calabria non riusciamo mai ad avere una categoria fatta come Cristo comanda bastava benissimo bastava benissimo trovare i fondi necessari affinché si iscrivevano meno squadre e si trovavano i fondi ma non è pensabile che sulla nostra pelle noi dobbiamo obbligatoriamente fare necessità virtù e piangerci addosso mi dispiace mi dispiace di questo perché sono molto amareggiato su questo qua però ne devo prendere atto arrivederlo eccolo qua il leggendario Domenico Tripodi mister della Meritese evidentemente soddisfatto sia per il risultato che per il gioco si hai detto bene soddisfatto oggi si soddisfatto sia del gioco che del risultato e però ti devo dire io anche l'altra volta tu mi hai fatto le domande sulla partita odierna ma io mi rifaccio alla partita della domenica precedente dove abbiamo perso un'occasione unica abbiamo perso con la Campese e dove abbiamo detto addio ai nostri sogni di gloria e quindi oggi ci siamo ritrovati con il Villa San Giovanni a dover vincere a tutti i costi per poter essere tranquilli d'ora in avanti dove andremo a incontrare squadre importanti Lazzaro Cinque Fronde Mielecucco quindi partite difficili quindi oggi era fondamentale era fondamentale abbiamo vinto abbiamo giocato bene e a un certo punto eravamo con una squadra di ragazzini in campo diversi 2001 99 quindi doppia soddisfazione soddisfazione perché abbiamo giocato bene e perché abbiamo vinto facendo giocare tanti ragazzini strano campionato quello della Meritese ha buttato dalle ortiche almeno 7 8 10 punti si ragionavamo proprio di questo sicuramente noi non siamo inferiore alle altre squadre alle squadre che sono al vertice purtroppo ci sono state alcune situazioni che ci sono un po' sfuggite di mano e quindi vabbè comunque tutto sommato siamo contenti per per tutto l'andamento dell'anno sia per quanto riguarda l'Under 18 perché bisogna ricordare anche che l'Under è arrivato al ridosso delle squadre come Bocale il Reggio Mediterraneo è squadra di tre categorie superiori quindi se la sono giocata con tutti addirittura con il Reggio Mediterraneo abbiamo vinto sia all'andata che al ritorno abbiamo perso adesso la semifinale con il Gallico perdendo il 97 perché perdevamo 1 a 0 poi abbiamo avuto 5-6 volte la palla voi eravate anche forse presenti al campo no forse non c'eravate e ce ne sono state 5-6 occasioni per poter pareggiare per poter addirittura vincere e poi il 97 abbiamo preso il gol del 2 a 0 quindi soddisfazione con l'Under con la prima squadra le soddisfazioni sono quelle che abbiamo giocato con una squadra giovanissima e poi quando ti affacci dalla panchina senti qualche intenditore di calcio di melito voglio dire vecchie bandiere che ci dice complimenti per come giocate per me questa è una grande soddisfazione quindi sono contento doppiamente peones e campesinos però sognano ormai il salto di categoria dopo tanti anni sì vabbè l'anno prossimo sicuramente il nostro campionato non sarà quello di seconda categoria questo te lo posso già anticipare l'anno prossimo faremo un campionato di serie superiore ci stiamo attrezzando a livello societario quindi credo che l'anno prossimo faremo un campionato sicuramente più prestigioso la città di melito che ha espresso campioni come Domenico Tripodi grande campione del melito e della melitese poi allenatore del melito e della melitese e anche del bagalate della bovese eccetera sì vabbè erano altri tempi erano momenti più fulgiti per melito stanno maturando i tempi per un ritorno alla grande sicuramente sì già c'è una squadra che è milita in prima categoria bisogna insomma intavolare dei discorsi eventualmente e fare una squadra forte una squadra che possa competere con le altre squadre locali in caso contrario la melitese andrà per i fatti suoi sì questo te l'ho già detto noi sicuramente il nostro obiettivo e la nostra consapevolezza è quella che l'anno prossimo avremo un campionato di un'altra categoria poi per il resto siamo disposti eventualmente ad eventuali ad eventuali discorsi che si potrebbero fare sedersi al tavolo e parlarne sì sicuramente sì uno dei giovani più interessanti Borruto che sta crescendo di giorno in giorno anche oggi appena è entrato ha fatto segnare al suo compagno di squadra sì mi è arrivata la palla giusta e l'ho servito al compagno che ha fatto gol quindi un Borruto ottimo in fase di interdizione della manovra avversaria e anche di proposizione della manovra dei compagni io gioco dove vuole il mister io gioco non è un problema diciamo il punto sui giovani con il mitico Valeri Lobanoschi alias Demetrio Romeo ma abbiamo un bel gruppo di giovani nell'ander 18 che possono fare la sua bella figura in seconda pure specialmente se siamo tranquilli perché poi la tranquillità fa giocare meglio non hanno paura e crescono sicuramente mancano tre giornate alla fine del campionato più tre o quattro cinque mancano penso perché se mancavano sei mancano cinque noi tentiamo di vincerle tutti perché ormai siamo tranquilli e giochiamo per vincere non diamo niente a nessuno è una mia e io sono di questo parere non dobbiamo dare niente a nessuno non chiedere niente a nessuno comunque i ragazzi con un'ottima mentalità comunque stanno maturando i tempi per il salto di categoria ormai se ne parla pensi che oggi nel secondo tempo abbiamo messo cinque a 2001 più avevamo il portiere il 2001 il centrale Meduri il 2001 abbiamo giocato con Sietto il 2001 già nel secondo tempo e essere orgogliosi di questo perché bisogna lavorare così con i giovani non sanno cambiare a tutto almeno spero grazie a tutti grazie a tutti